Buongiorno cari amici, oggi vi voglio dedicare all'attualità. Come sappiamo in questo periodo in ambito legislativo, quindi nelle camere, si sta discutendo del tema del federalismo. Il federalismo, come tutti un pochettino sappiamo, consiste nel suddividere le entrate e le spese separatamente tra regioni, regioni, macroregioni, quello si vedrà chiaramente nei decreti attuativi. Quindi essenzialmente le persone del Lazio pagano delle entrate tasse, una percentuale di queste tasse rimane alla regione e la regione con questo paga gli ospedali, paga per tutte le prestazioni che adesso vengono demandate. Con questo si immagina di avere una maggiore efficienza, abbastanza logica, nel senso che comunque da un certo punto di vista le persone dovrebbero essere un po' più motivate a pagare le tasse nel momento che vedono più da vicino come queste tasse vengono spese, almeno questa è un auspicio. D'altro punto di vista, gli amministratori regionali, locali, saranno spinti a non avere la manica larga, essenzialmente dovendo comunque pagare le spese con i soldi che loro stessi incassano. Se poi rischiano di non avere servizi di scarsa qualità oppure di richiedere troppe tasse, chiaramente non verrebbero rieletti e quindi questo potrebbe essere uno stimolo per una migliore amministrazione. Dunque, questi chiaramente sono il lato positivo, si parla di questo, si parla quindi di quanto possa essere nel caso di sforamento del bilancio di una regione quanto le altre siano chiamate a sopperire, un po' abbiamo visto quello che sta succedendo in Grecia, che è appena successo, quindi quanto è la percentuale delle tasse che devono essere messe a comune, quante invece tenute all'interno della regione, tutte queste cose orientate nel futuro, quindi diciamo bocce ferme, bocce ferme. L'Italia è stata appena fondata e partiamo col federalismo, è così però, no, non è tanto così, perché esiste un ragionamento un pochettino schizofrenico, perché da un punto di vista parliamo di federalismo e da un altro punto di vista parliamo di debito pubblico, mai però di due discorsi contemporaneamente. Cos'è questa caratteristica del debito pubblico? Il debito pubblico ha la caratteristica di essere associato allo stato centrale e come viene creato il debito pubblico, essenzialmente vengono fatte più spese di quanto siano le entrate, quindi in qualche modo vengono emessi dei buoni, questi buoni vengono acquistati o internamente, all'interno diciamo del territorio di applicazione delle spese e delle tasse, oppure all'esterno. Vabbè, questi soldi esistono, nel senso non possiamo immaginare che col federalismo, diciamo questo debito, col federalismo tutto si vaporizzi, essenzialmente tutte le famiglie hanno queste cose, ma quindi si può dire abbiamo ora il federalismo, ma ho rinunciato a tutti i volti i crediti. E quindi, cosa succede? Allora, ci sono due ipotesi, chiaramente, che si aprono. La prima ipotesi è che il debito rimanga allo stato centrale, quindi le regioni se ne partono verginissime, quindi con dei bilanci totalmente a posto, e ricominciano da capo. Adesso che succede? Da un certo punto di vista in queste ipotesi, vediamo che non c'è nulla che impedisca alle regioni stesse di emettere un nuovo debito, anche solamente come un meccanismo di anticipazione delle spese, insomma, per avere un minimo di cash flow, nel senso tra quando fanno degli investimenti e quanto hanno delle rientrate, un po' motivo, diciamo, virtuoso perché si apre un debito pubblico, e quindi ci possiamo immaginare che le regioni producono anche l'oro del debito, producono anche l'oro del debito, debito che chiaramente si va ad aggiungere al debito pubblico, a quali tassi? Ci immaginiamo che siano i tassi più alti di quelli del debito pubblico, almeno in un certo primo momento, perché, meno male, lo Stato nazionale ha un'esperienza di gestione del debito maggiore rispetto alla regione, che, meno male, insomma, gli amministratori regionali non hanno ancora dato forma di brillantezza dal punto di vista amministrativo. Per quanto sia, quindi si formerà, diciamo, una contrapposizione, una concorrenza tra questi due tipi di richiesta di sottoscrizione del debito, quindi debito pubblico che aumenta, aumenta in maniera, diciamo, estremamente robusta, perché le regioni sono 21, se sa se saranno di più o di meno, non sappiamo, e ognuna, chiaramente, si immagina che ne apra di debito, quindi debito che da un certo punto di vista viene mantenuto sotto controllo, eccetera, da un altro punto di vista rischia di esplodere, con il rischio che l'amministrazione centrale possa fare ben poco, nel senso anche perché nel momento che disciplina le spese della regione, a quel punto dio federalismo, quindi debito pubblico che si impenna, che si impenna, quindi investitore che potrà dire voglio comprare dei BOR, buoni ordinari regionali, oppure dei BOT, buoni ordinari del tesoro, quindi io ho 1000 euro, o li spendo da una parte o non li spendo dall'altra, bene o male i tassi crescono da due le parti, il debito aumenta, prima ipotesi, e quindi il rischio è che a un certo punto tutto quello che si è fatto finora per mantenere il debito sotto controllo, in realtà sfugga di mano, altre ipotesi, altre ipotesi, da un certo punto di vista migliore, ma difficilmente percorribile, il debito viene diviso in base a pesi relativi alla popolazione, al prodotto interno al mondo o quant'altro, tra le 21 regioni, quindi 100 milioni di miliardi di euro, non si sa, adesso è quasi un numero incontabile il debito pubblico nazionale, a Lazio, 150 mila alla Lombardia, 70 mila alla Basilicata, 60 mila alla Sicilia e quant'altro, quindi queste regioni non sono più vergini, partono quindi con questo carico di debito che poi dovranno amministrarsi, e quindi emetteranno dei buoni del tesoro anche loro, chiaramente dovendo in qualche modo estrarre dal proprio bilancio una parte per pagare il debito. Immaginiamo che qualcuna di queste regioni non ce la faccia, non ce la faccia e che quindi tutti gli investitori, poi sarà da capire come queste azioni potrebbero essere attribuite ai quali investitori ricevono i titoli di quale regione, forse di residenza, di lavoro, lo sappiamo, e che quindi qualche regione possa fallire, immaginiamo Sicilia, chissà, possa fallire e quindi tutti gli investitori di quella regione potrebbero perdere dei soldi, potrebbe però questo non succedere perché dovrebbe cambiare il governo, e quindi bail out e quindi lo Stato centrale ripiana il debito, come è successo con la Grecia, e di nuovo addio federalismo, quindi abbiamo in un caso uno Stato centrale che praticamente detiene tutto il debito, si trova in concorrenza con le regioni e quindi ha dei tassi più alti, da un altro punto di vista si trova senza un supporto materiale per il debito, perché se tutto diventa delle regioni, essenzialmente diventa una partita di giro quella che amministra lo Stato e quindi il debito non può rimanere a lui, o comunque, chissà che fine fa, perché a quel punto diventa veramente uno schema di ponzi, regioni che continuano a creare debito, però difficilmente falliranno loro, forse fallirà lo Stato centrale, altro caso le regioni falliranno, quelle meno efficienti, oppure il federalismo si abbandonerà. Perché non si parla di tutto questo? Perché non si parla di tutto questo? Perché ogni volta che se ne è parlato di questa cosa qui, il federalismo non si è fatto, e intanto il debito pubblico cresce, non se ne parla, quindi shhh, non ne ho parlato neanche io di questo argomento, non lo dita a nessuno, il debito pubblico non esiste, il federalismo avrà successo, uuuuh, un saluto!